Un'amministrazione comunale in crisi da mesi, un rimpasso già avvenuto e ancora nuove tensioni e disaccordi. A Teramo ancora manovre di assestamento e nomi non ufficiali che lasciano di fatto aperte tutte le possibilità. Fino a quando si è concentrati su cambiamenti di facciata che vengono richiesti, chi occuperà quale poltrona e quant'altro, noi a questo gioco non ci siamo e ci siamo tirati fuori. Speriamo di poter essere chiamati in causa nel momento che torneremo realmente a parlare dei temi della cittadinanza. Abbiamo messo adesso nelle condizioni il sindaco e il resto della maggioranza di poter fare l'aggiunta migliore che credono. Ci auguriamo poi di poter tornare nel dibattito politico, almeno amministrativo, parlando soltanto dei temi e non di spartizione di poltrona. Se da un lato ci si interroga sul nuovo esecutivo, dall'altro c'è un bilancio da approvare. Bilancio che deve essere stato chiuso a fine aprile e che ancora attende il confronto in aula con forti polemiche riguardo ai tagli. È stato già votato dall'aggiunta il bilancio, però io personalmente ho idee diverse, nel senso di arrivare a fare dei tagli strutturali, perché noi abbiamo un anticipo di cassa che si avvicina ai 20 milioni, quindi io ritengo che bisogna fare dei tagli strutturali per cercare di ridurre il più possibile di questo anticipo di cassa. Produrrò degli emendamenti, farò in modo che in consiglio si porti quest'idea e spero di trovare una maggioranza che vada in questa direzione. I 5 Stelle intanto richiamano tutti all'ordine ricordando responsabilità e doveri di una pubblica amministrazione che deve garantire solidità e servizi alla propria cittadinanza. Non deve essere ostaggio di un sindaco che si sta tenendo stretti i suoi due stipendi, anziché dimettersi subito, perché ovviamente non ci sono più le condizioni, andare a casa e dare immediatamente la parola al popolo teramano. In questo bilancio ci sono solo tagli fatti a caso e non c'è alcuna azione di rilancio economico per questa città che sta morendo.